via allora la strategia che andiamo a vedere oggi l'abbiamo chiamata noi o gold in the water c'è l'oro che entra o esce dall'acqua o se volete se vi piace di più un po più tecnicamente la 5 nella 50 ok allora velocemente voi sapete che delorean è impostato io dico sempre spiego sempre ai nuovi è impostato ci aiuta a vedere i movimenti del prezzo all'interno di una specie di spartito non una sorta di quaderno che non ha le righe non ha i quadretti ma le cinque medie ok io mano a mano che vi spiego ragazze mai fa piacere se collaborate mi dite sì no se capite ok le cinque medie di delorean che sono appunto la media gialla gialla che appunto è la 55 periodi non una media esponenziale a 5 periodi poi abbiamo una media rossa che la chiamiamo pomodoro sono comunque la rossa che è una 13 13 periodi poi abbiamo la famosa e importantissima fondamentale media dell'acqua no l'azzurra che è una 50 periodi e poi abbiamo la linea grigia o la terra in genere grigia la facciamo marrone perché non c'è il grigio su zoom e che è una 200 periodi 100 periodi e poi infine abbiamo la blu la dark blu che è la 800 periodi bene quindi questo se lo volete impostare sul vostro metatrader 4 dal telefonino o dal computer va bene è per avere lo schermo c'è ma il campo di gioco se voleva se vogliamo chiamarlo così il campo di gioco di delorean il prezzo dobbiamo sempre continuamente vedere quando va su va giù va sopra sotto a queste cinque medie ok vi è chiaro fino adesso penso che anche i nuovi se hanno aperto almeno una volta dell'ora hanno visto che ci sono queste cinque medie e tutto si 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 gioca tra virgolette si svolge nel capire se il prezzo rimbalza su una media su un'altra quindi va su e giù dalle dalle cinque medie e delorean stesso lo scanner delorean il servizio essenziale fondamentale delorean ci chiama quando ci chiama quando succede una situazione cioè quando una candela una candela facciamo l'esempio di una chiamata in in baino quindi una chiamata per il bike quindi viene segnalata con una freccia una freccia blu quando è che delorean ci chiama ok amico vai a valutare un'operazione in bai quando una candela blu una candela blu una candela blu più grande della candela rossa precedente ok quindi ci deve essere una candela rossa poi una blu più grande di quella di quella rossa entrambe a cavallo della media rossa 13 periodi e quando si verifica questa situazione qua delorean ci chiama e ci dice amico guarda se vuoi vai a valutare il resto cioè non è un'indicazione apri in bai senza guardare senza la legge ne scrive però da questo livello qua del prezzo quando si chiude la candela la candela blu più grande della rossa entrambe tagliate dalla linea del pomodoro quando si si verifica questa situazione qua delorean ci dice guarda potrebbe essere interessante aprire in bai ditemi se fino a qua vi è chiaro delorean e come funziona davvero semplice semplice poi ci sono le sue regole per capire dove mettere lo stop loss ovvero sotto le ombre e così stiamo facendo anche un po un ripasso generale sotto le ombre delle due candele precedenti anzi fatemi fatemi cancellare una cosa se no questo fa confusione ok queste quali cancelliamo le abbiamo disegnate prima quindi quando questa è una classica situazione di delorean ci chiama per il buy e lo stop loss andrebbe messo qui sotto so un po più sotto delle ombre delle due candele che hanno creato la situazione e il take profit andrebbe messo se consideriamo il time frame classico in cui la maggior parte delle chiamate di lorean vengono cioè lm 15 andrebbe messo o se c'è una media un'altra delle medie più in alto qui oppure diciamo per semplicità andrebbe messo su una struttura precedente c'è un picco precedente che si è verificato qui in alto o se no per non sbagliare ragazzi quando delorean in m15 fa una chiamata se si fanno un numero di pips che potrebbe essere da 15 a 20 ok sono quelli pips dopodiché in m15 dopo un impulso di 15 20 pips abbastanza normale che tenda a indireggiare cioè è un'eccezione che continui avanti mi dite se vi è chiaro questo cioè che in m15 gli impulsi le candele più lunghe insomma si arriva a 10 15 pips ma poi tendenzialmente torna indietro il che non significa che se torna indietro un po poi non risalga poi storia indietro poi sai che potrebbe continuare per 200 pips per quanto ne sappiamo noi però diciamo che sicuramente il primo impulso un primo target se vogliamo se vediamo che fra stop loss e take profit 15 pip sono sufficienti cioè sono un rapporto 1 2 quindi per invece rischiare il 2 per cento e guadagnare il 4 per cento quella in operazione cioè possiamo semplicemente usare delorean con semplicità prendendo circa 10 15 pips in m15 ok ditemi se vi è chiaro questo perché è molto importante tenere semplice no lo dico sempre scherzando ridendo ma è una grande verità don't over complicate non complichiamo più le cose di quello che serve ok vi è chiaro questo quindi in m15 quando un delorean ci chiama dice ma dove lo metto il take profit ci sono le regole sono spiegate penso e spero bene le regole di mettere il take profit sulla prossima media che si incontra oppure se c'è una struttura precedente eccetera eccetera però di base ancora più semplice 10 15 pips prendi il tuo profitto porta a casa ci sono delorean tre volte ogni quarto d'ora e durante la giornata ragazzi ci sono tantissimi delorean tantissime situazioni che possono essere valutate viste ok poi addirittura sappiamo che un'altra regola di delorean è che dopo che si è formata la candela la candela più grande in genere fa una piccola piccola ridiscesa fino magari appunto alla rossa e poi da lì parte se vi è tutto questo chiaro adesso andiamo a spiegare una strategia alternativa sempre utilizzando le cinque medie di delorean ditemi se vi è chiaro fino adesso quindi abbiamo fatto un mega ripasso tra l'altro per chi è nuovo dell'utilizzo di base come ci chiama lo scanner quando ci chiamo lo scanner cosa fare e come sfruttarlo e chi lo sta facendo ragazzi e sta facendo i soldi perché comunque molte delle operazioni vanno vanno in profit e tra l'altro mi fa piacere così spiegarlo chi mi ha chiamato dicendo guarda mamma mia guarda eb delora lo vedo che è bello non mi è chiaro solo per la parte del m15 potresti ripetere piacere sì ok allora quando apriamo delorean vediamo se riesco a farvelo insomma comunque nello schermo di delorean quando lo lo quando lo aprite lo scanner ok avete il vostro schermo qua e sulla parte destra c'è un elenco delle chiamate no le varie chiamate con il nome della coppia nella coppia valuta gbp usd e urcard quello che è e tra parentesi vedete che c'è il time frame in cui si è verificato cioè e quindi potrebbe essere m15 piuttosto che non h1 alle volte anche a quattro le più frequenti le più frequenti sono m15 c'è chiaro anna maria anna anna ok quindi il fatto che sia m15 non è non è una scelta mia o tua vostra cioè è delorean che si chiama e ci dice in quel time frame in quel esatto momento c'è quindi si chiama appena chiude la candela in quel time frame la si è verificato questa situazione che noi chiamiamo delorean quindi aprire un delorean m15 e tecnicamente quello che dobbiamo fare è uguale solo che naturalmente il movimento di una candela di h1 dura un'ora il movimento di una candela di m15 dura 15 minuti per cui le candele del time frame m15 sono più piccole più più veloci a formarsi più piccole e quindi tutto quanto va tarato in questa velocità più è basso il time frame più le cose avvengono rapidamente cambiano rapidamente più è alto il time frame più ci mettono a formarsi certe situazioni e più ci mettono a disfarsi le stesse situazioni ok ti è più chiaro anna maria quindi non è una scelta che devi far tu una cosa che devi decidere tu e delorean che ti dice tra parentesi questo delorean è accaduto in m15 e quindi tu devi andare a vederlo in quel time frame la più chiaro perfetto allora stavamo dicendo quindi nel nel quando voi avete anche sul vostro sul vostro metatrader 4 da computer cioè dove aprite le operazioni o persino da cellulare insomma poi può essere un po più scomodo per un discorso che lo schermo piccolino eccetera eccetera però quando avete quando avete le vostre cinque medie andrete a notare una cosa che l'acqua l'acqua è la è la media un po più importante se così vogliamo no facciamo consideriamo sempre di considerarlo in m15 l'acqua un po la media più importante lo disegno una linea dell'acqua a caso cosa vuol dire che un po la più importante che sostanzialmente il prezzo il prezzo della coppia facciamo sempre il classico esempio eur eur boh è una coppia a caso vale per tutte le coppie ma il prezzo va continuamente un po su un po torna all'acqua poi casomai scende sotto casomai sopra c'è più o meno guardatelo ragazzi prendo un grafico qualsiasi più o meno è un continuo andare su e giù da dal livello dell'acqua e quindi quando diciamo ditemi se vi chiaro che l'acqua è il punto di equilibrio è un magnete vuol dire che si ci si stacca perché se stesse sempre attaccato all'acqua significherebbe che il prezzo non si muove però è un magnete si vedeva su si allontana un po e poi torna giù si allontana un po poi torna giù di chiaro questo questo movimento potete prendere un grafico qualsiasi vedere e vedrete che che è un po sempre così poi quanto si allontana e quanto tempo sta distante è quello cambia e d'accordo però che ci sia questo andamento deve essere chiaro allora proprio perché l'acqua è l'equilibrio c'è uno dei concetti dei concetti quasi filosofici di delorean proprio perché l'acqua è l'equilibrio e quando il prezzo e quindi le candele varie candeline quando io dico il prezzo intendo dire le varie candeline quando le candeline rosse blu attraversano attraversano l'acqua è un momento un po particolare e come si dice se essendo uno spartiacque la linea dei 50 periodi e cambiano un po i giochi c'è quindi probabilmente andiamo in un trend ribassista o rialzista o andiamo o appunto piuttosto che non andiamo contro trend allora in delorean abbiamo una regola semplicissima bellissima che ci dice il trend è definito dalla posizione dell'acqua rispetto alla terra e se questo non lo sapete segnato perché è un altro dei dei concetti belli chiari semplici dell'ora quindi supponiamo che la terra sia qua sotto quindi è sopra o sotto l'acqua scrivetemelo voi in chat cioè anzi facciamo prendiamo l'acqua è sopra o sotto la terra in questo momento come l'ho disegnata io acqua sopra o sopra sotto sopra ok quindi se l'acqua è sopra la terra il trend è rialzista ok scrivetelo in chat così vedo se mi seguite l'acqua sopra la terra trend trend rialzista ok fantastico dai so che sono un po didattico ma va bene così vi abituate a rispondere e prendere prendere appunti mentalmente quindi se è il contrario se l'acqua fosse sotto la terra trend ribassista benissimo quindi siamo in un contesto di trend rialzista perché l'acqua è sopra alla terra allora quando il prezzo le candeline del prezzo le candeline rosse no fanno fanno scendere fanno scendere giù qui siete d'accordo che se il prezzo scende ci saranno ci saranno per forza delle candeline rosse non può scendere con delle candele blu ok a meno che non cambiate i colori ma quindi saranno delle candele rosse in questa parte qua invece ci saranno delle candele blu in questa parte qua magari saranno anche alternate con alcune con alcune rosse ma se avete visto almeno qualche volta grafico se il prezzo sale vuol dire che la maggior parte delle candele sono sono blu sono quantomeno più lunghe ci siete su questo bene allora le candele del prezzo sono sempre più o meno incollate alla linea gialla cioè che abbiamo detto quella che chiamiamo noi chiamiamo l'oro e che tecnicamente quella cinque periodi ok quindi loro sarà sempre quando scende le candele stanno sotto la linea dell'oro e allora cosa ci interessa a noi ci interessano tutti i momenti in cui la linea dell'oro c'è la linea gialla attraversa la linea dell'acqua ditemi se mi servite fino a qua questo è il momento il punto il concetto principale di questa strategia quando la linea gialla attraversa attraversa la linea dell'acqua quando l'oro attraversa l'acqua ecco perché la chiamiamo gold oro in the water nell'acqua l'oro nell'acqua allora loro nell'acqua può essere un loro nell'acqua che si immerge cioè che scende sotto l'acqua e sarebbe questo punto qua che è chiaro che qua è un oro che dall'alto va verso il basso e attraversa l'acqua verso il basso vi è chiaro ditemi sì o no questo punto qua è gold in water down e questo punto qua invece qualche cosa di diverso c'è sempre che attraversa l'oro che attraversa se ci fosse la gialla qua no sempre l'oro che attraversa l'acqua però la differenza cos'è che qui è up bravissimi e quindi qua avremo lo chiameremo gold in water up questa è una fraccetta verso l'alto ok quindi abbiamo 22 gold in the water gold in the water dall'alto verso il basso e il gold in the water dal basso verso l'alto allora qual è la strategia che quando l'oro attraversa l'acqua verso il basso mentre il trend è rialzista non lo sappiamo ma diciamo che può essere scenda ma poi non tantissimo perché se il trend rialzista prima o poi il prezzo salirà quindi a noi cosa ci interessano tutte le volte in particolar modo ci interessano tutti i gold in the water up durante un trend rialzista perché in m15 abbiamo insomma statisticamente dalla nostra parte che quando l'oro attraversa l'acqua in un trend rialzista cioè quindi quando l'acqua è sopra la terra per vari motivi era sceso e risale cioè quindi riprende il trend di fondo il trend rialzista quando l'oro va su almeno per una decina di pips almeno per una decina di pips e continuerà a salire e circa circa 10 pips ok alle volte potrebbero essere trenta ragazzi ci sarà la volta in cui saranno cinque questo diciamo che se avessimo una cosa matematica saremo tutti ricchi no quindi non per forza di cose né questa né nessuna strategia al mondo è sempre vera sempre ogni volta si verifica così però di fatto questa è una stata statisticamente valida come strategia molto molto semplice quindi non fate altro che guardare l'oro quando l'oro attraversa l'acqua porta riportando il prezzo nella direzione del trend beh insomma potreste valutare un'operazione by da dove da dove dalla quando la candela si chiude sopra quindi fatemi capire se mi seguite se l'oro sale che di che colore saranno le candele qui in questo punto questo esula dal dal del si delore la chiamiamo quella situazione di prima le candele a cavallo della media rossa quindi quello che ci sia lo scanner questa è una cosa che possiamo guardare anche noi e fa sempre parte di delorean roberto fa sempre parte della strategia della filosofia del orain perché usiamo sempre la stessa impostazione delle cinque medie quindi il campo di gioco come lo chiamo io per capirci il campo di gioco rimane quello diciamo che seguiamo è un altro un'altra regola un'altra setup un'altra strategia per fare punti a questo gioco il modo in cui facciamo punti è sempre quello prendere a per in operazione by se il prezzo sale anzi se il prezzo sale sembravi aprire operazione by e quindi quello non cambia però è un modo diverso se vogliamo anche più semplice insomma comunque ancora più più autonomo per per usare le regole di delorean la media delorean e la strategia delorean che rimane quella cioè la genialità di chi l'ha inventata è di aver notato che appunto il prezzo va continuamente su e giù rispetto all'acqua all'equilibrio dell'acqua ok si intendevo che non bisogna aspettare la chiamata no non bisogna bravo sì sì esattamente non c'è una chiamata per questo siamo noi che possiamo prendere un grafico guardare quando vediamo che l'oro si sta avvicinando all'acqua e lo sa per attraversare se l'attraversamento riporta il prezzo in favore del trend sappiamo che una decina di pips ci sono se potessi dirvi sempre ragazzi ve lo direi volentieri in realtà devo dire spesso molto spesso quasi sempre non posso dire sempre perché non è così ci sono delle volte in cui risale e poi riscende subito e quindi magari quindi come si fa quando vediamo che il loro attraversa l'acqua verso l'alto nel caso di un trend rialzista e quindi mi stavate dicendo giustamente le candele saranno candele blu dobbiamo aspettare che una candela blu chiuda sopra l'acqua a quel punto la entriamo entriamo in buy per 10 p mettiamo un take profit di una decina di pips e mettiamo uno stop loss potrebbe essere praticamente sotto l'acqua poco sotto l'acqua potrebbe essere se volete fare cioè magari un'operazione con il rischio rendimento uno a uno che non è straordinaria però c'è chi ragazzi ci fa un sacco un sacco un sacco di soldi anche con operazioni 11 cioè non è necessario fare per forza sempre 1 a 30 e se no non siamo bravi o se no non guadagniamo ci sono delle strategie più semplici se volete che ci possiamo contattare anche di 11 quindi mettiamo lo stop loss di 10 pips e il take profit di 10 pip e ci portiamo a casa i nostri soldi e se ci pensate è anche molto logico che se stava se il trend rialzista vuol dire che nella maggior parte come si dice no trend isofrende no seguiamo il trend quindi durante un trend rialzista dobbiamo per forza preferire le operazioni by ha senso questo ragazzi durante un trend rialzista si 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 preferisce sempre visce aprire le operazioni by sì o sì quindi delorean ci dice con le sue medie se è bello bello semplice semplice dice guarda se l'acqua sopra la terra siamo in un trend rialzista per cui in un trend rialzista andiamo a cercare tutte le occasioni di by ecco che vi ho spiegato oggi la strategia gold in the water quando soprattutto quando loro sale sopra all'acqua quindi ritorna in ritorna in rialzo quello momento quindi probabilmente farà 10 pip magari ne fa anche molti di più poi sta a voi se avete modo tempo capacità di gestirla invece che mettere 10 pip la seguite a mano vedete un pochettino però insomma 10 pip in genere si fanno 7 8 10 pip si fanno quasi sempre stop loss comunque lo mettiamo lo stesso perché non si sa mai che sia un falso è un falso un falso rialzo e poi torna giù però insomma in genere anche se torna giù non torna giù mai più di tanto e se torna giù più di tanto perché è una cosa straordinaria per fortuna per fortuna che c'è lo stop loss ok non so se avete mai seguito qualche lezione di tyron il creatore l'inventore di delorean lui dice sempre un po scherzando che lo stop loss è come tua mamma è come tua mamma ti ti para ti pare il culetto quindi se per caso qualcosa di anomalo succede che invece che salire scende precipita per fortuna che c'è lo stop loss perdiamo il nostro 2 per cento quello che abbiamo investito però pazzia meglio perdere due che non perdere tutto quindi lo stop loss ci preserva da grandi perdite stop alle perdite serve per quello e dobbiamo imparare a usarlo ok quindi dimmi se vi è chiara la strategia ragazzi la gold in the water chiara semplice bella non nel time frame m15 10 pips e poi in un time frame beh che scalping puro sia no scalping per come lo si intende di solito è molto più veloce addirittura operazioni da un minuto due minuti quindi ancora più veloci questo qua diciamo che sono operazioni piccoline sicuramente però per iniziare possono essere buone è una sorta di fast fast intraday fast un'operazione del genere può durare un quarto d'ora 20 minuti e quindi bello semplice no se avete voglia di farlo quindi poi attenzione non significa che questo gold in the water avvenga ogni quarto d'ora cioè può avvenire due tre volte al giorno non è che sono tantissime però sul tante le copie sono tante e per cui quando se osservate i grafici state facendo le vostre analisi tenete d'occhio il gold in the water per concludere possiamo vi faccio un po una domanda poi do io la risposta possiamo fare un gold in the water down durante un trend rialzista cioè potremmo aprire in cell qui se l'acqua sta sopra la terra quindi se il trend rialzista possiamo aprire in 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 cell vi lascio un po riflettere chi dice no chi dice no mattia dice no allora alla risposta forse vi stupisce un pochettino la risposta è sì nel senso sì possiamo perché chiaramente possiamo che nessuno ce lo vieta e oltretutto se avete studiato un pochettino le cinque lezioni delorean base come si chiama come si chiama il movimento che va dall'acqua alla terra dall'acqua alla terra cioè se l'acqua è su e la terra giù se io vado dall'acqua alla terra c'è un nome che diamo in delorean a questo movimento qua dall'acqua fino alla terra bravissima gloria bravi no bts no no il bts sembra un movimento che va da da sopra da sopra all'acqua all'acqua fino all'acqua l'abbiamo battizzato il battisti perché acqua azzurra acqua chiara no cioè vado giù all'acqua tocco l'acqua poi ritorno su mentre se scendo sotto l'acqua e vado fino alla terra appunto è il bts che è una zona un po po strana perché se se l'acqua è sopra la terra eppure il prezzo scende vuol dire che sta andando in contro trend no quindi se l'acqua sopra la terra il trend rialzista se il prezzo invece va addirittura sotto vuol dire che siamo in una fase sicuramente contro trend quindi questo bts però è l'unico che nella strategia delorean di base che impariamo è l'unico movimento contro trend che ha una certa qual sicurezza che cosa vuol dire una certa qual sicurezza vuol dire che insomma quando scende in genere scende fino fino alla alla terra quindi per rispondere alla domanda di prima possiamo aprire in in cell quando quando vediamo che l'oro scende sotto l'acqua sì ma assolutamente al massimo fino alla terra o anche meno se dall'acqua fino alla terra ci sono più di 10 pips io metterei comunque un take profit un take profit dopo 10 pip e poi magari va fino alla terra perché fa tutto il bts però magari ne fa metà 10 pips vale lo stesso quindi per dirvi che comunque si possono fare sia i gold in the water up che i gold in the water down sia a favore di trend che contro trend naturalmente i gold in the water up cioè quindi da quando è scesa a quando risale cioè ritorna a favore di trend sono quelli potenzialmente anche più lunghi ma come si fa a tradare il bts se le medie tendono sempre ad essere in ritardo il fatto del ritardo è una caratteristica delle medie che è assolutamente considerata quindi tutto quello che diciamo tiene conto del fatto che le medie si formano si disegnano sulla chiusura delle candele questo è il concetto di ritardo no però tutta la strategia è stata statisticamente provata sapendo benissimo che le medie c'è l'ultimo trattino della media è disegnato tecnicamente un po in ritardo perché viene disegnato sulla base della candela già chiusa quindi quella precedente però fa parte fa parte del gioco è previsto questa realtà anche un effetto non so se vogliamo scendere tecnico ha un effetto che appunto quando 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 succede che si chiude la candela rossa ad esempio sotto qua in genere risale un pochettino e anche questo gli abbiamo un nome chi ha studiato un pochettino lo sa si chiama il patrick push quindi dopo una candela forte che porta sotto sotto acqua ad esempio in questo caso ci sarà una piccola risalita e poi eventualmente la discesa e quindi tutto questo viene considerato alla luce del fatto che sappiamo benissimo che le medie sono in ritardo di una candela ok via chiaro quindi tutto molto molto semplice questa qui osservo l'oro e quando la candela che l'ha creata quindi la candela che crea il gold in the water up sarà sempre una candela blu la candela che crea il gold in the water down sarà sempre una candela rossa quando si chiude la candela possa entrare sel al massimo fino alla terra quando la candela blu che ha creato il gold in the water up si chiude posso entrare in buy io dico insomma per sicurezza di 10 pip o se no se siete la mano a vederla potete fare anche 15 anche 20 alle volte alle volte quello che succede ragazzi e questo qua c'è fa un gold in the water up durante un trend rialzista magari ne fa 50 di pip però per fare 50 pip sale poi scende ancora poi di sale poi scende non la fa non li fa sparati questo non li fa mai sparati per cui se volete che l'operazione si chiude in profitto in fretta mettete 10 pip 15 pip al massimo se no se avete voglia tempo di seguirla potete seguirla e vedere ok io mi fermerei qua anche perché mancano cinque minuti se avete qualche domanda va benissimo se no per oggi abbiamo fatto una bella strategia nuova semplice che vi può dare soddisfazione la provate mi dite chiaramente come si dice non sono consigli finanziari sono 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 così strategie che impariamo che testiamo quelle che migliori le condividiamo realmente non c'è nessuna strategia ragazzi che funziona sempre magari 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 ma purtroppo per fortuna non c'è nulla di garantito non sempre testare provare essere bravi e svegli ok se avete domando su questo ragazzi benissimo se no ci salutiamo ci vediamo martedì prossimo saluti e baci ho qualche domanda vai 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 riccardo allora ai cinque minuti in meno di cinque minuti della domanda allora una checklist per operare con dell'ora oltre alle quattro dopo una chiamata allora una checklist si l'abbiamo spiegata cioè oltre alle di base dell'ora nasce così e non è un'invenzione mia quindi non ho inventato io le quattro che ma le quattro regole di base quindi il controllo delle della distanza delle medie quello che faccio io un po di più è cercare di capire in che momento della giornata avviene quella chiamata dell'ora cioè se è verso sera posso fidarmi non fidarmi se più o meno vicino al pavimento o al soffitto della dr spero sappia cosa sia riccardo se mai lo spieghiamo un'altra volta o se guardi le ultime zoom ne abbiamo parlato molto di questo cercare di capire se a favore di trend o contro trend queste sono ulteriori cose perché se mi capita così facciamo un esempio live negli ultimi quattro minuti c'è un delorean rialzista quindi candela blu più grande della rossa entrambe tagliate da dalla media rossa se un delorean rialzista ad esempio è all'interno di un un trend quindi qua c'è l'acqua e la terra è qua ok un delorean rialzista in un trend ribassista tanto si arriva all'acqua tanto si arriva all'acqua e quindi poi magari riscende quindi posso anche aprire però so che magari ho proprio poca strada da fare se l'acqua è davanti e dell'acqua è sotto la terra non sarà un grande delorean probabilmente quindi i delorean che sono in favore del trend sia il trend dove dove avvengono sia il trend di fondo che vi ricordo sempre è l'h1 il nostro trend di fondo è l'h1 per delorean e lm 15 è quello più operativo se sono a favore di trend sono più probabili più probabile che prendono l'abbrivio ti ho risposto un pochettino riccardo quindi delorean nasce attorno a quelle quattro domande che poi in realtà sono due perché le prime due sono sempre positive in genere le ulteriori cose è capire se il delorean ti porta a favore di trend o contro trend se contro trend controlla che questo quindi vuol dire che è un bts quindi sei contro trend è un bts se ho un delorean in m30 il trend lo guardo sempre in h1 sì 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 a meno che non sia appunto un delorean in h1 allora dai un'occhiata anche al trend che c'è in h4 quindi sempre nel trend più grande più ampio ok questo senza chiaramente andare a vedere il trend settimanale o daily perché lì non è più finita sono se dobbiamo valutare cosa succede in m15 all'interno di cosa succede a livello mensile non è più finita quindi cerchiamo di tenerla semplice appunto e guardare due time frame tra le m15 e le m1 oppure tra l'h1 e l'h4 ok dai manca veramente poco direi che baci e tanto ci vediamo martedì prossimo se venite con tante domande io sono contento così diventa ancora più utile per tutti un abbraccio ci vediamo buon weekend buon trading oggi domani e alla prossima